noi siamo abituati a pensare all'aerosol come quello che utilizziamo per non so quando abbiamo un raffreddore un mal di gola eccetera bene quelle sono particelle di aerosol che noi generiamo con un apparecchietto eccetera no in atmosfera l'atmosfera è piena di queste particelle di aerosol si chiamano nuclei di condensazione senza questi minutissimi nuclei di condensazione facciamo un esempio dai dai dalle onde del mare viene tanto sale ecco cloruro di sodio solfato d'ammonio queste cose qua ecco che il vento trasporta in atmosfera e il vapore si il vapore condensa su queste minutissime particelle si formano le goccioline i cristalli ed ecco qui pioggia neve eccetera ecco perché è uno è uno degli esempi che che lei porta proprio per far capire come degli interrogativi semplici hanno risposte ben diverse da quelle che noi pensiamo ad esempio lei ci agevola due interrogativi bellissimi perché piove in un certo momento e come mai le precipitazioni sono sempre diverse beh sono centrali questi due temi riesce a darci una risposta sintetica sì diciamo perché piove in un certo momento è perché c'è un sistema precipitante che ci sta transitando sulla testa in inverno per esempio sono i grandi fronti che i nostri meteorologi dicono vengono dall'atlantico no ecco allora eh sono le piogge diciamo continue diffuse eccetera in estate ecco che abbiamo le piogge estremamente localizzate e molto intense quelle dei temporali ecco perché è sempre diversa se siamo in montagna eh succedono determinate cose se siamo in quota magari la pioggia non è più pioggia mai neve eh eccetera 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 se c'è un grande temporale ecco che arriva la grandine insomma pioggia neve e grandine eh sono collegate sono fenomeni collegati e si presentano a seconda dei casi ecco organizzati in maniera diversa